Con il cambio di stagione è facile soffrire di stanchezza, poca energia, vitalità e poi nervosismo, cattivo umore, irritabilità. A me capita regolarmente, succede un po' a tutti, anzi le statistiche dicono che ogni anno oltre 3 milioni di italiani soffrono di mal di primavera, una vera e propria sindrome stagionale. La causa è la reazione ormonale del corpo al cambiamento climatico. Le ore di luce aumentano e questo squilibra la produzione di ormoni, in particolare la melatonina che, oltre a favorire il sonno, regola l'umore e il tono di energia. Ah, ecco perché ci sentiamo tutti sfasati. Sì, ma possiamo aiutare il nostro corpo. Ci sono molti alimenti che contengono un aminoacido amico del buon umore. È il triptofano, uno dei precursori della serotonina, l'ormone della felicità. Il triptofano si trova in legumi, semi oleosi, cioccolato, cereali, verdura e frutta. Anche il magnesio non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta primaverile. Questo minerale sostiene il corpo contro stanchezza, malumore e nervosismo. Ecco allora i 10 migliori cibi anti mal di primavera. 1. Albicocche, ricco di potassio, magnesio e fibre aiutano l'umore. 2. Kiwi, pieni di vitamina c antiossidante che sostiene il sistema immunitario. 3. Ciliegie, non è un caso che arrivano in primavera, apportano vitamina c e flavonoidi antiossidanti. 4. Avena, l'avena favorisce il relax e contrasta lo stress grazie alla vitexina. 5. Grano saraceno, sostiene la circolazione aiutando ad avere più energia e meno cali. 6. Piselli, contengono potassio, fosforo, magnesio, zinco e proteine bag leggere. Energia e digeribilità. 7. Asparagi, perfetti per fare detox in primavera e depurare il corpo dalle tossine che lo affaticano. 8. Porro, ottimo per zuppe o cotto al vapore con le sue fibre e mantiene pulito il colon. 9. Frutta secca, noci, mandorle, pinoli eccetera contengono fosforo che sostiene il cervello e omega 3. 10. Sardine, leggere e ricche di omega 3 aiutano il cervello a produrre serotonina. Noi andiamo a farci un bel pranzetto. Bravi e fatelo anche voi amici. Mangia sano e vivi meglio. Sotto in descrizione trovi link ai miei libri ed ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale, il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo video. Nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!